questo pane molto buono buono eh dove una regia come te ha insegnato a parlare l'italiano in italia la guerra dove salerno anzio sicilia vicino catania catania lo sono di catania eh sì pensavo che tu erano a 100 come catania quanto tempo ha stato alla guerra quattro anni 411 incambato 122 aranzio fuori fettefetri minchia minchia e riscando di morire excepto scandato and don't let anybody tell you that that they weren't afraid there's a lot of bullshit you know they everybody's afraid and you pray a lot i prayed a lot i prayed that i'd never sin again as long as i live if i can just get out of here but then the fight starts and then you forget about everything just trying to survive stay alive